Il sindaco di Lozza, Giuseppe Licata, ha concluso positivamente la sua avventura da candidato al Consiglio regionale della Lombardia, rientrando tra i sette eletti nella provincia di Varese. Il 45enne, di origini siciliane, nato a San Cataldo, ha anche vissuto a Caltanissetta, dove ha frequentato il liceo scientifico. Una lunga carriera politica alle spalle per l'ingegnere informatico, che da anni vive in Lombardia, lavorando in prefettura, e ha anche conseguito un master in organizzazione e innovazione nella pubblica amministrazione. Giuseppe Licata, al secondo mandato da primo cittadino nel comune Lombardo, nonché coordinatore provinciale di Italia Viva, ha rivestito anche il ruolo in provincia di consigliere, occupandosi di politica del lavoro, bandi europei, digitalizzazione e bilancio, così come si precisa nella sua biografia online. Sono molto soddisfatto della mia elezione in regione Lombardia, frutto del mio lavoro politico in questi anni, da sindaco, da consigliere provinciale, ma anche di un gruppo di persone che mi hanno sostenuto. La mia candidatura è un progetto politico. Adesso per me comincio un percorso nuovo, ma con l'obiettivo di sempre, che è quello di fare delle cose concrete per i cittadini e per il territorio. Sento anche un'emozione in più da Nisseno, sento la responsabilità e anche l'orgoglio di rappresentare in qualche maniera la sicilianità. Spero di farlo nel migliore dei modi. Sento anche un'emozione in più.